La sconfitta di Avola è già acqua passata e il Giarre vuole ripartire verso il prossimo impegno con il Belpasso. Decima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Impegno casalingo, anche se ancora non si sa, e lo si dovrebbe capire in giornata, se si giocherà di sabato o di domenica e soprattutto se si giocherà a porte chiuse oppure si individuerà un campo neutro. Già scartate le soluzioni Pedara e Castiglione di Sicilia. Tornando ai problemi tecnici, Saro Patanè rivedrà il campo nel 2017, a causa dello stiramento che lo affligge da una settimana, mentre Alessandro Curcuruto sta lentamente recuperando. Per il resto tutti a disposizione di Giancarlo Fichera, sperando che la vicenda stadio non influenzi la testa dei giocatori, considerato anche lo strettissimo connubio tra società e squadra. Dopo due sconfitte consecutive, al di là di tutto serve una reazione. Grazie. 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 Grazie.